Una cosa della quale possiamo andare veramente orgogliosi in questa emissione è la proposta quotidiana di gruppi belli, bravi, insomma, che poi mi viene voglia di riproponere qualcosa veramente, io non immaginavo cominciando questo programma che ce ne fossero tanti gruppi bravi, bravi, vabbè, Pisa vuoi presentarci? Sì, abbiamo oggi le Bambole Blu, le Blue Dolls, sono un trio, ovviamente il gruppo che l'accompagna che viene da Torino, sono nate nel 2005 ed è composta da due soprano e un tra l'altro, ovvero Erika Celesti, Federica Pallante e Viviana Dragani, hanno pubblicato recentemente con l'aiuto di Marco Parodi alla chitarra, Riccardo Vigore al contrabbasso, Luca Rigazio alla batteria e Paolo Volante al piano l'album che dovrebbe avere lì sulla scrivania e loro attingono in pratica a canzoni anni 40 allo stile delle Andrew Sister e del Trio Lescano. Prego, sentiamone voi. Ascoltiamo un primo pezzo che si chiama proprio Blue Dolls. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.